Si celebra oggi la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate a Bologna, la cerimonia in Piazza Maggiore. Per noi, Ivana Delvino. Siamo particolarmente contenti di poter festeggiare oggi la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate e di dare un segnale forte di ritorno alla normalità. Il sole che splende su Piazza Maggiore dà il via le celebrazioni della festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate a Bologna. Dopo l'edizione 2020, svolta in forma privata alla Certosa in piena pandemia, questo 4 novembre aperto al pubblico segna una ripartenza nel giorno in cui si ricorda l'armistizio di Villa Giusti nel 1918 che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale e l'annessione di Trento e Trieste. Nell'occasione è stato consegnato il tricolore agli studenti delle scuole medie e la vinia fontana di Bologna. Con la consegna della bandiera si è voluto davvero dare un testimone, ma soprattutto un impegno nostro perché possiamo garantire una ripartenza con serietà. Per loro poi, anche dal punto di vista civico, è una grande responsabilità che spero prendano seriamente. Significa custodire un valore per la nostra città.